Benvenuto alla rassegna Alert 231. Sono Matteo Rapparini, il curatore e l'ediatore del blog Consulenza 231 e autore di software e corsi online sul decreto legislativo 231. Con questo video ti presento le ultime novità inserite nel servizio Alert 231. Questa settimana abbiamo inserito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novità. Vediamoli insieme. Allora abbiamo una notizia inerente alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti che pubblicherà una linea guida di categoria per i modelli 231. Poi, nella sezione Gnusa abbiamo l'altra notizia che riguarda la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge 68-2015-2015 che prevede l'introduzione dei 5 nuovi reati sulla 231. Nella sezione Documenti puoi accedere a un articolo modelli 231 e giudice penale. Nella sezione Gnusa un'altra notizia, la pubblicazione del software Integra 9001-231. È un software che consente di verificare se l'integrazione tra il sistema Qualità ISO 9000 e il modello 231 è stata effettuata correttamente e consente anche di verificare, prima di fare l'integrazione, quali sono le nonconformità già presenti in azienda. Poi abbiamo tre convegni che si terranno a Roma sulla 231 e infine un'offerta di lavoro uno studio legale ricerca un avvocato esperto 231 e è uno studio legale di Padova. Puoi accedere a queste news e a tutta la documentazione pregressa contenuta nel servizio Alert 231 abbonandoti al servizio 231. attraverso il sito consulenza231wordpress.com Grazie per la tua attenzione